Perché siete qui oggi? Siamo qui oggi per far vedere ai cittadini italiani quella che sarà la nostra posizione in merito al DDL Cirinna. In alcuni casi alcuni senatori e alcuni parlamentari di altri partiti politici hanno preso posizioni dove si sono messi a ragionare sul merito. A noi in questo momento non interessa tanto ragionare sul merito quanto far vedere a tutta Italia che noi siamo contro questo disegno di legge. Totalmente dalla prima parola fino all'ultima e quindi faremo di tutto affinché in aula venga ritirato il più velocemente possibile.